Ciao a tutti, oggi prepareremo la tisana dimagrante allo zenzero. Il tempo di preparazione della ricetta è di 25 minuti circa. Gli ingredienti sono zenzero, succo di limone, buccia di limone non trattato, miele d'acacia e acqua. Andiamo il via alla ricetta. Iniziamo mettendo nel boccale lo zenzero. Lo tritiamo per 10 secondi a velocità 5. Con la spadola ariniamo sul fondo del boccale lo zenzero. Adesso aggiungere il succo del limone, la buccia del limone e l'acqua. E facciamo cuocere per 20 minuti. 100 gradi, velocità 1. Adesso lasciamo intiepidire la tisana all'interno del boccale per 5 minuti e poi la andremo a filtrare. Trascorsi i 5 minuti filtriamo la nostra tisana. Andiamo a rimuovere il filtro. Aggiungiamo il miele. Mescoliamo bene fino a quando non si sarà sciolto del tutto. La nostra tisana è pronta. Andiamo a versarla in una tisaniera. Tisana dimagrante allo zenzero. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie e alla prossima ricetta. Grazie a tutti.